Avola ritorceva denaro alla madre e ha arrestato un uomo che all'arrivo della polizia crediva agli agenti. I agenti del commissariato di Avola hanno arrestato per il reato di resistenza pubblico ufficiale un avolese di 53 anni. L'uomo, che è gravato da numerosi precedenti di polizia, si era arrecato per l'ennesima volta presso l'abitazione della madre allo scopo di chiedere del denaro da impiegare probabilmente nell'acquisto di sostanze stupefacenti. All'arrivo dei poliziotti, l'uomo mostrava subito la sua aggressività e spintonava un agente che cercava di farlo allontanare dall'abitazione. Dopo le incombenze di legge, l'arrestato è stato posto ai domiciliari.